Le immagini che vi mostriamo, realizzate da un camera card in un'auto che seguiva, mostrano l'agghiacciante sequenza del frontale che si è verificato nel pomeriggio di venerdì lungo la strada statale 16 Adriatica ad Ancona all'altezza del Grot Center, proprio sotto il ponte dell'A14 e che vi mostriamo in esclusiva. Si vede chiaramente il furgone bianco, condotto da un idraulico 66enne di Castelfidardo, impattare violentemente contro un ostacolo e poi la Golf che seguiva, condotta dal dottor Giorgio Longhi, anestesista dell'ospedale di Osimo, che non ha potuto evitare il furgone tamponandolo a sua volta. Dall'altra parte del furgone bianco, nello schianto da paura, c'è un Opel Astra che viaggiava in direzione Osimo, con al volante un commercialista 43enne di Ancona, che non si sa per quale motivo ha invaso la corsia opposta, proprio mentre sopraggiungeva il furgone dell'idraulico. E' stato proprio il dottor Longhi a soccorrere per primo il 43enne, rimasto privo di sensi all'interno della sua autovettura, ma che ha poi ripreso subito conoscenza. L'ho visto venirmi contro, dichiarerà l'autista del furgone, pensavo che rientrasse, invece me lo sono visto addosso e non ho potuto fare nulla per evitare. Per lui si è alzata l'eliambulanza da Torrete, dove l'uomo è stato ricoverato in gravi condizioni, anche se non in pericolo di vita. Sul posto, oltre alla croce gialla di Camerano, anche i vigili del fuoco e la polizia stradale di Fabriano ed anche i colleghi di Ancona in supporto per regolamentare la circolazione, andata inevitabilmente in tilt con il traffico che è rimasto bloccato per circa una mezz'ora. Grazie. Grazie.